L'area dei versamenti è il punto di raccolta dei vari servizi gestionali e consente all'utente di visualizzare l'impatto finanziario delle singole scadenze, dandone una rappresentazione immediata dello stato di avanzamento. La gestione dei versamenti permette di ottenere in tempo reale la situazione degli adempimenti gestiti, di monitorare e gestire l'elenco delle deleghe generate in base ai tributi provenienti dai vari servizi applicativi e di effettuare l'invio delle deleghe in base alle modalità definite per il cliente. In questo cruscotto è possibile rilevare le informazioni relative alla scadenza del versamento, al saldo della delega, allo stato e alla modalità di invio telematico. Inoltre è possibile visualizzare la delega e accedere all'elenco dei tributi e contributi che l'hanno generata. Il cruscotto di riepilogo Tributi e contributi evidenzia l'elenco dei tributi e dei contributi con l'indicazione dell'origine e della data di scadenza, mostrando anche lo stato dell'adempimento che ha generato il tributo. La gestione fornisce inoltre una visione sintetica dei crediti utilizzabili in compensazione, con l'indicazione della data di inizio e fine utilizzo e dell'importo residuo. Il prospetto consente di visualizzare la storia del credito con i vari utilizzi. A completamento della gestione, è possibile registrare facilmente le deleghe in prima nota. Dall'elenco delle deleghe ancora da registrare, attraverso una semplice azione, si ottiene la generazione della scrittura contabile.